Non si può perdonare nel sacramento senza la consapevolezza di essere stato perdonato prima. Papa Francesco ha preseduto nella Basilica di San Pietro la celebrazione penitenziale e ha dato sostanza alle parole che aveva rivolto la mattina ai partecipanti al corso promosso dalla penitenzieria apostolica. Prima di sedere nel confessionale si è lui per primo inginocchiato per riconciliarsi, per ricevere la carezza misericordiosa del Padre Celeste. Quindi in quasi un'ora ha confessato sette penitenti, tre uomini e quattro donne, tutti laici. La celebrazione è svoltasi in un clima di grande raccoglimento, anticipato di una settimana all'iniziativa 24 ore per il Signore, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.